L'ex dama del trono over di uomini e donne parla del gabbiano fiorentino.Dopo un periodo di silenzio, Anna Tedesco è tornata a parlare facendo delle nuove dichiarazioni ad un giornale locale L'ex dama del trono over ha confessato, che Giorgio Manetti è felicemente fidanzato Delle affermazioni che avevano provocato un polverone mediatico visto che l'ex cavaliere è molto popolare A distanza di alcuni giorni la donna Umbra ha rilasciato un'altra intervista, ma questa volta a nuovo, il magazzine diretto da Riccardo Signoretti Anna Tedesco confessa di aver conosciuto la fidanzata di Giorgio Manetti.Anna Tedesco è tornata a parlare, e ha fatto delle rivelazioni clamorose su Giorgio Manetti Ecco cosa ha confessato l'ex dama del parterre Signora al settimanale Nuovo 2. Tra me e lei c'è stata subito una bella intesa, non la scelta, perché è un'imprenditrice come pensano molte persone, ma perché è una donna calma Comprensiva Che ha saputo riempire gli spazi vuoti che lui aveva nel suo cuore Quindi secondo la testimonianza della dama Umbra, il gabbiano fiorentino ha finalmente trovato la persona giusta per lei E in tutto questo cosa ne penserà Gemma Galgani.Di domanda.Giorgio Manetti torna in televisione Giorgio Manetti, però, nell'ultimo periodo non è tornato al centro del gossip per il suo nuovo amore Si parla del gabbiano anche per il suo possibile ritorno in televisione. A svelare il tutto ci ha pensato il diretto interessato che ha smentito, però, che non parteciperà più al trono over di uomini e donne Secondo alcune indiscrezioni l'ex cavaliere del parterre senior di Uedi potrebbe partecipare alla quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, che partirà a febbraio 2019 su Canale 5 Grazie mille